Che è l'azienda italiana che si occupa da 20 anni di innovazione nel campo dell'informatica sanitaria e del software in telemedicina. Siamo qui oggi per presentare la nostra piattaforma di presa in carico del paziente cronico al domicilio, la piattaforma 2Gare, dispositivo medico utile appunto per la gestione delle attività di televisita, telemonitoraggio e teleconsulto al paziente.